C'è ottimismo nel sindacato irpino dopo la visita blindata del dirigente Fiat Alfredo Altavilla presso lo stabilimento di Prato la Serra. Il braccio destro di Marchionne, responsabile FCA Pre-Europa, Medio Oriente e Africa, ha tenuto un tour nella fabbrica con l'obiettivo di rilanciare l'ex FMA grazie alla produzione di un nuovo motore. Si va dunque verso l'addio alla cassa integrazione e al ritorno alla piena occupazione, con la speranza che, come a Melfi, presto il lingotto possa annunciare assunzioni anche in Irpinia. La visita del dirigente Fiat è stata al centro della riflessione tenuta dalla Cisla alla presenza del segretario nazionale di categoria. Si può dire che si apre una nuova pagina per lo stabilimento di Prato la Serra? A questo indubbiamente si sta aprendo una situazione in tutti gli stabilimenti. I nostri accordi sindacali che sono stati spesso attaccati ingiustamente, ormai nessuno ha alcun dubbio rispetto al fatto che abbiamo fatto accordi di difesa occupazionale e hanno costretto il gruppo a investire nel nostro Paese, perché se il piano di Marchionne ha una certezza chiara è che gli investimenti, circa 6 miliardi, vengono fatti negli stabilimenti italiani e quindi la Fiat non è scappata dall'Italia. Noi abbiamo costruito le condizioni, Melfi è lì e dimostra tutto, che non solo abbiamo recuperato i 5.400 lavoratori in cassa integrazione, ma addirittura ci sono mille giovani in un Paese distrutto dove i tassi di disoccupazione di giovani ormai sono oltre il 50% che iniziano a lavorare tra le altre cose con un lavoro che si prefigurerà nella condizione della stabilità, perché attraverso il Job Act sarà a tutte le crescenti e darà una certezza. Questa cosa è una cosa che noi auspichiamo per altri stabilimenti, perché Cassino ovviamente noi ci aspettiamo la salita da parte della Giulia, abbiamo già notizie sul fatto che probabilmente già tra aprile e maggio anche quello stabilimento avrà la piena occupazione e quindi la cassa integrazione sparirà anche da Cassino. Ci sono altri 7 modelli nell'ambito d'Alfa che verranno sviluppati negli stabilimenti italiani, è chiaro che gli altri stabilimenti che forniscono motori, cambi come ad esempio lo stabilimento di Prato della Serra avranno effetti benefici sia sui volumi e noi ci auguriamo che si arrivano a condizioni anche di incremento occupazionale.